Ciao a tutti carissimi amici di Country Live, io sono tornata qui al Mondelli Stable per il Dobro and Friends, sono sempre con il magico gruppo dei Dobro Country Rock Band, l'ho detta in pieno, e adesso vorrei sentire parlare Stefano, che è il cantante ovviamente di questa band, quindi che anche a me sottolineo che piacevolmente ho scoperto che viene da Ravenna, la mia stessa città, ma volevo chiedere a Stefano il panorama della musica attuale italiana a livello di country, come ti sei trovato a cantare country, sei nato cantando country o magari, che ne so, scopro che cantava liscio e poi si è convertito al country, non lo so, nella vita della... Beh, se devo essere sincero non è che sei stata tanto discostante dalla realtà, perché la musica per me è iniziata con la mia mamma che mi portava a Castrocaro Terme a fare cure termali, io ascoltavo l'orchestra, andavo sul palco, andavo a ascoltare, c'era un signore simpaticissimo del quale non so neanche il nome, ma che ricorderò per tutta la vita, che mi diceva questo è un quattro quarti, questo è un tre quarti, un due tre, un due tre quattro e mi spiegava le differenze già da bambino a sei, sette anni e questo mi ha toccato molto il cuore. Da allora io mi sono avvicinato a tanti generi, ho suonato rock, ho suonato tante altre cose, però il country è la cosa che mi ricorda di più casa mia, venendo anche dall'estero, nel senso che è uno di quei generi che secondo me con la Romagna e l'Emilia, insomma la nostra regione ci prende abbastanza, perché noi siamo campi, stiamo fuori, c'è il trattore, ci sono le stesse, delle cose molto simili, ovviamente un po' più in piccolo. Io lo sento un po' a casa mia il country, l'ho sempre sentito fin da bambino, ascoltando, guardando il cane fuori che corre nell'aia, queste cose a me me lo ricordo, le galline nel polaio, sotto le mie galline personali, i miei animali, eccetera, c'è una bella differenza, e quindi ascoltando e traducendo i test in inglese delle canzoni country, ho assaporato quello che mi sono reso conto che non c'era tanta differenza dal loro modo di vivere al mio, anche se io invece guardando la televisione da bambino pensavo ci fosse un'enorme differenza, questo mi ha avvicinato molto, già da piccolo, quando avevo 10-12 anni, ascoltando Dean Martin con mio padre, mentre guardavamo i film, My Rifle, My Pony e tutte queste cose, poi sono cresciuto e dopo, quando ho avuto la possibilità di fare veramente quello che mi piaceva, ho lavorato nella musica rock e in tante altre cose, ma il country mi ha rapito completamente il cuore, e come mi chiedevi tu, in Italia sta emergendo, sta emergendo ma si deve creare una forte sinergia che ancora è marginale tra i ballerini e i musicisti, perché la cosa viene vissuta in un modo piuttosto, diciamo così, superficiale, no? Cioè, non si può neanche pretendere che tutte le persone conoscono la storia della musica country, a me già va bene che gli piaccia, perché comunque ha fatto una bella scelta, però credo che bisognerebbe riflettere su quello che noi andiamo a fare, cioè quando noi balliamo un passo di ballo, o ascoltiamo una canzone alla radio di musica country, dovremmo porci il quesito, ma che cosa stanno dicendo queste persone, di che cosa stanno parlando? Perché delle volte, ascoltando degli accordi maggiori, noi pensiamo che una canzone parli d'amore, mentre invece sta parlando di uno che si sta suicidando magari, perché se non sappiamo esattamente, la tematica è così. Comunque, tra ballerini e musicisti, bisognerebbe cercare appunto di creare una forte solidarietà e sinergia per poter andare avanti, e questa potrebbe essere la chiave vincente per rendere l'Italia un mondo country, anche qua, così come in America. C'è chi sta già cercando di farlo, ma si può fare anche di più. Eh, lo so, perché ho già fatto un'intervista, grazie Stefano, meraviglioso. Io ripasserei, parlando proprio di questo argomento, scusa, poi il microfono ce l'ho qua, non so perché te lo porto via, ad Eugenia, sono una centatrice, e volevo proprio affrontare questo discorso. Allora, dal 79 che è nata la band, sicuramente avete visto tante albe, tanti cambiamenti in questo mondo, che ripeto, è esploso negli ultimi due o tre anni, concedetemelo, è entrato in tutte le case, adesso pare che tutti ballino country, che l'abbiano sempre fatto, ma, come cerco sempre di sottolineare quando faccio la trasmissione, non è ballare country, non è musica country, è uno stile di vita country, che va capito, che va compreso, dal cappello alla scelta dello stivale, anche il tipo di ballo, a come tieni la mano, è già una diversificazione, sono tante le cose, ne abbiamo parlato sempre con tanti, insomma, professionisti. Voi, come l'avete vissuto? Questa trasformazione continua a livello di musica, ma anche a livello personale, insomma, le difficoltà, le soddisfazioni anche, finalmente, adesso, di essere riconosciuti da 79, che cercate di portare avanti questa musica. L'argomento è spinoso, decisamente, soprattutto per il fatto che in giro c'è molta gente che, anziché avere lo spirito giusto della collaborazione, del bene comune, pensa molto al proprio ticello. Diciamo che, personalmente, ma credo di parlare a nome anche di tutta la band, tutto quello che è nella direzione del nostro genere musicale, che sia il ballo che segue il country, che siano le band, che sia la musica, qualunque cosa, che siano i media che cominciano pian piano, forse, a trasmettere qualcosa, va bene, va bene tutto. Non è sbagliato quando senti discorsi, ma i ballerini, il DJ, no, va bene, è country. Oggi è un momento dove il ballo sta prendendo molto piede e dove molta gente che approccia il country lo approccia tramite il ballo. Se riesci a essere, secondo me, una persona di buonsenso, tu dici, vabbè, intanto è entrato nel mondo del country, per il ballo apprezzerà la musica. Quando comincia a capire lo spirito, il mondo del country, la musica, le cose poi maturano da sole. Cioè, se il country si diffonde, il ballo country si diffonde, è inevitabile che le band che fanno country piano piano possano trovare da lavorare di più e abbiano una audience maggiore. Quindi, guardare il fine ultimo e non avanti una spanna dal naso è quello che noi facciamo e fino ad oggi è premiato, sinceramente. Allora, su queste bellissime parole di Eugenio, io faccio loro tantissimi auguri e complimenti per questo nuovo bellissimo CD che adesso ci mostreranno, lo andranno a prendere, se lo mostreranno. Andiamo di là perché ci sarà una grande serata qui al Mondelli Stable. Grazie a tutti voi di essere stati qui con noi davvero e di averci regalato un po' della vostra magica esperienza. A tutti voi, a presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao.